Amici telespettatori, oggi parliamo della giornata mondiale di lotta alla Lebra. Ne parliamo con la dottoressa Anna Maria Pisano, che è presidente nazionale dell'AIFO, cioè Associazione Italiana Amici di Rolfo Lero, che è il fondatore, mi pare, di questa giornata mondiale, di l'istituzione di questa giornata mondiale. Dottoressa Pisano, domenica c'è questa giornata mondiale per i malati di Lebra. Ecco, che cosa? La Lebra esiste ancora innanzitutto. Purtroppo la Lebra esiste ancora e esiste anche in modo notevole. Soprattutto resta ancora una malattia emerginante, che è molto pericolosa e pesa molto, non tanto per la malattia in se stessa, che adesso si può curare molto bene, che si può curare anche con poco e che in breve tempo non è più infettiva, non è più contagiosa, ma è ancora pesante proprio per l'emarginazione che ancora la copre. È una malattia che rimane ancora una malattia biblica e soprattutto c'è un pericolo notevole perché la gente pensa che sia scomparsa, quindi non se ne occupa più. E i governi pensano che sia scomparso oppure pesano, fanno pesare il fatto che deve scomparire il più presto possibile. E quindi veramente anche la sanità se ne occupa pochissimo. In Sardegna qual è la situazione? Ma in Sardegna sembra che non ci siano più da qualche anno casi locali. Ci sono solo casi di persone che hanno viaggiato in tutta Italia, adesso in Sardegna esattamente non so se ci sono persone che hanno viaggiato. Ci sono però in genere in Italia o persone che sono state in paesi esteri oppure persone che vengono da questi paesi. Ma è contagiosa? In genere la lebra è una malattia infettiva, quindi è molto contagiosa. Il problema della lebra però è che normalmente solo meno del 5% delle persone è sensibile alla lebra, quindi il 95% si difende da sola. Soprattutto la lebra è contagiosa, però un paziente che comincia a prendere le medicine, diciamo che dopo una settimana, facciamo due settimane che prende le medicine, non è più contagioso, perché soprattutto la medicina più importante, il rifadine, fa in modo che il batterio sia praticamente frammentato e quindi non contagia più. Nonostante questo, in tanti posti lo stesso medico fatica a toccare un malato di lebra. Una ritrosia naturale oppure non capisce di trovarsi davanti a un caso? Ma io penso che siano proprio questa mentalità, la mentalità per cui la lebra è ritenuta una malattia, la lebra era stata sempre ritenuta una maledizione di Dio. Lei sa che benissimo c'è dai tempi degli egiziani, si nota nella Bibbia, si ripete nel Vangelo, Gesù Cristo ha guarito tanti malati di lebra, tant'è vero per esempio che la data dell'ultima domenica di gennaio folerò la scelta proprio perché in quel periodo c'era il Vangelo dei lebrosi guariti da Gesù nel Vangelo. Adesso col cambio dei Vangeli, col calendario, allora cambia. Però in quel periodo c'era stata scelta proprio per quello. Diciamo che quindi c'è questa idea per cui in tantissimi paesi ancora la lebra è vista come una maledizione. Per cui per esempio in India una persona che ha solo una macchia sospetta di lebra è scacciata dalla famiglia, perde il lavoro, perde praticamente la possibilità di stare nel villaggio. Ecco. Praticamente come i tempi di Gesù Cristo. Come i tempi, sì. So di persone per esempio che addirittura, ecco addirittura la famiglia che li voleva bene gli costruisce una casetta lontano per esempio, una stanza lontano, proprio perché deve stare assolutamente separato, se no viene proprio scacciato. In Brasile pure, in Brasile forse non è così forte però io per esempio lì abbiamo un gruppo di persone addirittura a Brasilia, quindi all'Università di Brasilia, curati all'Università di Brasilia, quindi neanche nella Busce insomma, che addirittura hanno a causa, cioè per merito di una signora, di una di loro che era stata malata di lebra e che tra l'altro lavorava in ospedale, era stata scoperta anche in ritardo, hanno formato una cooperativa, un gruppo di autoaiuto, proprio perché si sentivano sole e abbandonate, proprio perché avevano perso famiglia, lavoro eccetera. Ascolti dottore, un bel giorno è venuto questo Rolfo Leroy, l'uomo della provvidenza potremmo dire, perché? Cosa ha fatto di così importante? Rolfo Leroy era una persona che da ragazzino a 17 anni ha fatto le prime conferenze. Non è un frate, è un laico tra l'altro sposato. È un laico sposato che ha girato il mondo 30 volte, ha fatto il giro il mondo 30 volte con la moglie e ha fatto tutto con la moglie Madeleine che lo seguiva e affrontava ogni cosa con lui. Lui per la verità da ragazzino era molto dedito agli ultimi, insomma parlava proprio come insomma che la carità era la cosa fondamentale, quindi si occupava una delle cose per esempio di Rolfo Leroy molto importanti che io mi ricordo sempre perché effettivamente indica la fantasia e contemporaneamente la carica che aveva quest'uomo, l'ora dei poveri che lui ha lanciato tra la prima e la seconda guerra mondiale proprio perché secondo lui tutti potessero aiutare, anche quelli che guadagnavano pochissimo, anche quelli molto poveri potessero dare un'ora del loro lavoro per delle persone che avevano più bisogno di loro. Quindi sentissero questo regalo di poter fare la carità ed è stata accolta benissimo. Poi lui era un giornalista e scrittore, una volta proprio mentre faceva un viaggio in Africa per una ricerca su padre de Foucault ha incontrato i lebrosi, ha incontrato i lebrosi e questi lebrosi che non si avvicinavano, erano fuori dal villaggio. Lui ha chiesto e gli ha chiesto appunto all'autista e l'autista non sapeva rispondere perché erano, gli diceva sono lebrosi basta perché non sono curati e sono lebrosi. Non c'era un motivo, il fatto che fossero lebrosi li irradiava da tutto quanto. E allora lui è stato colpito moltissimo da questi che in quel momento erano gli ultimi del mondo, ha girato il mondo davvero 30 volte abbracciandoli. Ecco allora effettivamente forse era davvero un eroe perché in quel momento c'era, prima non c'era cura, poi c'era solo Aldapsona che non curava la lebra, la manteneva solo stabile. Ecco. Sì ma non c'è problema perché adesso, a parte il fatto che si sa molto di più sulla lebra, si sa che insomma uno che è sotto cura non è contagioso, si sa tutte queste cose, ma dice bisogna vincere il fatto di abbracciare una persona che molte volte non vede il viso deformato, ha le mani senza ditta, veramente sì. Però sappiamo benissimo che la lebra è una malattia non contagiosa e che tra l'altro anche nel caso estremamente raro che uno se la prenda, se prende alla prima macchia diciamo che in sei mesi è perfettamente curato senza problemi. Il problema nostro invece che noi diciamo che davvero è una vergogna è il fatto che in questi paesi ovviamente la gente non va per una macchia, tra l'altro si nasconde se è una macchia e se magari le viene il dubbio che possa essere lebra. E allora arrivano quando sono già cominciati a prendere i nervi, perché il problema della lebra è quello che la lebra comincia a colpire la pelle ma poi colpisce i nervi, i nervi della sensibilità, i nervi che regolano tutta la circolazione e quindi comincia a dare anestesia delle braccia, dei piedi, nel viso, quindi con cecità, con perità delle dita, con perità delle mani eccetera. Quindi tanti se lei va per esempio in India in questi posti, in Africa, vede benissimo delle cose anche molto simpatiche, insomma molto curiose e interessanti, donne per esempio veramente senza ditta che lavorano a maglia perché così si convinciano, non si sa come facciano, ma comunque lavorano benissimo a maglia perché in quel modo nei gruppi di autoaiuto riescono magari ad aiutarsi a continuare ad andare avanti eccetera, che lavorano con la zappa, i campi, senza ditta proprio. Ecco, perché ecco, è quello che dico io una vergogna, perché? Perché se noi continuassimo veramente quello che si faceva prima è quello che si dovrebbe fare, non aspettare che in questi paesi dove non c'è nessuna possibilità la gente arrivi in ospedale quando è veramente disastrata, ma si vada davvero a fare un minimo di medicina preventiva anche nei villaggi come si faceva prima, la malattia di lebre si prende all'inizio, quando ci sono le macchie, quindi guarendola completamente senza disabilità. Ma visto che c'è tutta questa possibilità di guarire, voi però mettete in campo una grandissima organizzazione, segno che c'è ancora da lavorare molto in questo senso, cioè voi siete presenti in numerosi paesi come AIFO, come associazioni comunque che si richiamano a voi, ecco, ma c'è bisogno di mettere questa macchina organizzativa così potente per debellare, per vincere, per lottare contro la Leba? Ma la nostra azione è quella soprattutto di sensibilizzare i governi perché continuino normalmente e adesso la Lebra non si cura più nel senso verticale, prima per esempio la tubercolosi si curava solo la tubercolosi, la Lebra solo la Lebra, si chiamava un tipo di medicina verticale, no, adesso si cura come medicina di base e quindi il tecnico di medicina preventiva normalmente va nei villaggi, segue tutto, quindi segue sia il peso del bambino, la mamma, eccetera, e segue anche le malattie infettive e tutto. Ok, il problema è ricordarsi di insegnare a questi tecnici che vanno che la Lebra c'è ancora e quindi ricordarsi per esempio di chiedere nei villaggi se c'è qualcuno che ha una macchia, ecco. Allora, con piccole cose, col fatto per esempio solo di ricordare che c'è, ecco, mentre siamo sempre più con questa idea dell'OMS che dice che ormai, prima ha detto che nel 2000 finiva, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima diceva che nel 2000 la Lebra era finita, poi finiva nel 2010, adesso dice del 2020, ok, allora praticamente non si fa più formazione di quelli che dovrebbero seguire la malattia, quindi la nostra idea è solo quella di tenere alto l'idea che esiste ancora e che bisogna seguirla, che non è, noi cerchiamo di fare in modo che sia una malattia come le altre, non una regina, ma che sia proprio una malattia come le altre, solo che come una malattia deve essere seguita e non abbandonata. Quindi noi prendiamo nei paesi collaborazione con i governi perché, ecco, le dico semplicemente, da poco siamo andati in Kenya dove seguiamo ancora progetti Lebra e la Lebra però in Kenya è quasi finita in certe zone, diciamo che in Kenya se ne trova molto poche nuovi casi. Però ci sono ancora tantissimi ex malati di Lebra, quindi guariti, che però sono disabili e quindi hanno bisogno di scarpe particolari perché non hanno sensibilità, hanno bisogno di qualcosa per instaurarli, per andare al lavoro, per non chiedergli lemosina, insomma hanno bisogno di queste piccole cose. Noi abbiamo chiesto al governo del Kenya, della sanità, quando siamo andati, cosa facevano e quanti erano questi disabili? Nessuno sapeva niente. E allora abbiamo chiesto cosa potevano fare per questi. E loro stessi ci hanno chiesto se potevamo veramente andare per indicarli come e cosa si poteva fare per poter seguire questi disabili che loro poi avrebbero continuato loro. Quindi in questi casi noi molte volte diamo solo una mano e un ricordo ai vari governi, alle organizzazioni dei disabili, alle organizzazioni di volontariato locali e a tutte le missioni, un aiuto alle missioni che seguono perché ad un certo punto non siano abbandonati tutti questi malati di Lebra, ex malati di Lebra disabili che già la cosa colpisce, no? Perché uno che ha avuto una meningita e non lo chiama ex meningitico è una persona che è guarita. Perché un malato di Lebra guarito si deve chiamare? Ex lebroso. Ex lebroso. E' un malato, ecco. Però esiste ancora, ecco. Adesso posso interromperla un attimo. Cosa si fa? Quali progetti avete adesso come AIFO italiana, lì la Presidente nazionale, e come AIFO Sardegna, di quelli operativi sul campo? Ecco. Noi siamo convinti che questi problemi siano, è importante trattarli come progetti fuori sinché quelli che sono fuori riescono a seguirseli da soli. Però contemporaneamente siamo del parere che tutti questi problemi di giustizia e di carità dipendono anche dalle nostre concezioni di vita e le nostre idee qui nei nostri paesi occidentali. C'è veramente una, ecco. Follerò diceva che la Lebra peggiore non è la Lebra malattia, ma è la Lebra indifferenza, individualismo, mancanza di fraternità, ecco, portare lo sguardo, ecco, infatti. E quindi noi cerchiamo di fare in modo di fare tutta una opera di formazione nelle scuole, di sensibilizzazione con le associazioni di disabili, con le associazioni dei medici, con chiunque. Anche nelle parrocchie, per esempio, quando noi andiamo per la giornata mondiale, si spiega qualcosa, si dice che la prima cosa è ricordarselo. La giornata mondiale dei malati di Lebra è stata fatta prima di tutto per ricordarci che esistono per essere vicini a loro. Poi è ovvio che per chi lo può offrire serve anche qualcosa perché dove non si può, insomma, serve un minimo di aiuto. E quindi noi facciamo opera di formazione, opera nelle scuole e collaborazione con tutte le organizzazioni, anche di rette. Ma avete un progetto, dei progetti particolari per il Brasile, per l'Africa? Aspetti, per quanto riguarda adesso in Italia, una cosa molto importante che mi preme dire è che noi, per esempio, siamo tanto convinti dei problemi di rette, per esempio, che non solo ci uniamo e siamo iscritti, facciamo parte del CNAL, della collaborazione, insomma, delle organizzazioni cattoliche, eccetera, ma facciamo parte, abbiamo formato il RIDS, che è un'organizzazione per la disabilità, un collegamento tra due associazioni di disabili, la FISH e la DPA International, la Disability International, e l'AIFO e l'Educade, un'altra organizzazione. Proprio perché in questo modo, per esempio, siamo riusciti a collaborare anche col Ministero degli Esteri per quanto riguarda la collaborazione a livello internazionale, per esempio, proprio per fare dei piani di azione perché siano formati le persone che devono continuare a trattare di disabili. E disabili sono tutti, sono i malati di lebre, sono tutti i disabili del mondo, che sono più di 800 milioni. Noi abbiamo circa 80 progetti, seguiamo adesso, nel mondo. No, no, nel mondo. Cioè, l'AIFO Italia segue 80 progetti? 80 progetti circa nel mondo. In Italia, le dirò, data la situazione adesso di impoverimento, noi stiamo cercando di collaborare molto con Caritas, con altre organizzazioni per la storia dei migranti, proprio perché non si può vedere solo quelli lontani, ma non dare sensibilizzare anche per i vicini. Ok, però noi, per quanto riguarda i progetti, abbiamo da tantissimo tempo progetti in Brasile e progetti in India. Tanto è vero che, siccome l'India e il Brasile, però, dove abbiamo tanti partenariati, sono paesi che adesso fanno parte del BRIC, quindi dei paesi che sono... In via di sviluppo. In via di sviluppo notevole, cioè hanno un PIL migliore del nostro, no? E allora, in questi casi, noi abbiamo formato dei coordinamenti locali con tutte le organizzazioni che adesso diventeranno delle associazioni simili all'AIFO. Praticamente, piano piano, cercheremo di fare in modo che siano associazioni sorelle. E autonome. Che si cercano autonome, il più possibile autonome. Poi abbiamo progetti in Mongolia, abbiamo progetti in Africa, in Mozambico, quindi a Bissau, Egitto, in diversi posti. Abbiamo progetti in Cina, sulla disabilità in Cina e anche sulla lebra. In Cina ci hanno chiamato apposta, quando la Cina si è un pochino aperta, perché i malati di lebra erano nascosti ed erano fuggiti sui monti, proprio perché al tempo di Mao venivano... Fatti fuori. Appunto. Lei non l'ha detto, l'ho detto io. Ascolta un po'. Ma vorrei chiarire questo problema. Lei ha detto che un po' il movimento, l'immigrazione, potrebbe portare qualche caso di lebra nei paesi, diciamo, in cui la lebra non c'è. Secondo lei questo è un rischio? Siamo in Italia, in Sardegna. C'è questo un rischio? No. Lo dica con forza, perché al rinvento la gente dice ma questi qui che vengono da fuori ci portano non solo alla loro povertà, ma ci portano anche alle malattie effettive. Normalmente gli immigrati che riescono ad arrivare in Italia sono sanissimi, sono i più sani, perché sono malati e non si muovono. Potrebbero avere qualche rarissimo caso che non se ne è accorto, perché diciamo che queste cose si curano molto meglio nei paesi di origine che qui, perché magari qui non le riconosce nessuno, la lebra per esempio. E quindi è veramente rarissimo. Qualche rarissimo caso che potrebbe arrivare non avrebbe nessun problema se noi avessimo qualche medico che riesce a capire, a capirlo. Allora, è proprio per quello che... Ma questo per tutte le malattie vale. Vale per tutte le malattie. In genere siamo noi che portiamo le malattie negli altri paesi, non sono loro che ce le portano, no? Perché in quei paesi molte volte hanno una... Per le nostre malattie hanno una protezione immunitaria minore. E quindi, sì, in genere. La lebra ha una cosa di buono, che è una malattia infettiva, però per il 98-95-98% delle persone sono già immunizzate da sole, non si ammalano. Quindi le altre potrebbero prenderla, però, appunto, ecco, potrebbero guarire anche immediatamente. Diciamo che per tutte le malattie, le cosiddette malattie dimenticate che ci sono adesso, no? Che sono dimenticate, ma non è che non esistono, per esempio, perché ci sono tante malattie di cui... che il medico adesso trascura perché sembra che siano dimenticate, ma che in realtà ci sono ancora. Che sono dimenticate anche perché le organizzazioni farmaceutiche, non avendo grossi consumi, non producono nuovi farmaci per tutte queste cose. E per quello che noi come AIFO, essendo un'associazione sanitaria, sociosanitaria, stiamo facendo ultimamente, l'abbiamo sempre fatto, ma in questo periodo stiamo facendolo un po' di più, dei convegni con gli ordini dei medici, proprio per vedere insieme sia i problemi della malattia dimenticate sia i problemi dei malati, del modo giusto di vedere il malato e di vedere le malattie e di vedere la salute, non come una... la salute non è, diceva la conferenza di Almata, non è una perdita di salute, e la salute è un stare bene, lo stare bene in senso totale e completo. Quindi noi parliamo con gli ordini dei medici proprio perché vogliamo collaborare con loro proprio per un modo nuovo di mettere in primo luogo la persona. Ascolti, perché si chiamano, in genere non lo dì, non si dice, sui giornali non si legge, è un malato di lebro, è stato un malato di lebro, anseniano. Che vuol dire? Perché la lebra è prodotta dal micobaterio di Hansen, inventato da Hansen. Uno scienziato, sì. Uno scienziato che è inventato da Hansen, anche uno scienziato svedese, e l'ha trovata in Svezia, non l'ha trovata in Africa, tra l'altro. Perché la lebra, cioè dappertutto, adesso da tutti questi paesi, è sparita piano piano proprio con il miglioramento della salute in questi paesi. E quindi è stata trovata lì. È un batterio, tra l'altro, che non è coltivabile in vitro. È difficile da studiare, proprio perché non si può coltivare in vitro. Si coltiva solo, per esempio, nella zampa di un certo tipo di toppi, oppure nel... Ah, non mi viene il nome di quell'altro animale, americano, comunque... Va bene. Non mi viene, va bene, insomma, ok. E basta, si coltiva solo in quei casi. Quindi per quello è più difficilmente studiabile. Domenica 26, che cosa avete organizzato per sensibilizzare i sardi al problema della lotta contro la lebra? Giornata Mondiale dei Malati di Lebra. In tutta Italia ci saranno tante piazze con tavolini e volontari che nei tavolini e nei gazebo presenteranno materiale informativo e avranno il miele della solidarietà. Miele? Sì, da un po' di tempo, da diversi anni, il miele della solidarietà è diventato un po' per noi il simbolo della cura della lebra. Ma il miele è prodotto in Sardegna? Per i sardi? Diciamo che in certi posti viene preso dai circuiti eco-solidali. Noi in Sardegna, considerata la situazione che noi abbiamo di disoccupazione, considerato che noi ne produciamo tanto, è anche molto buono, noi prendiamo il miele sardo, il miele della Sardegna, in tutte le province, sia Nuoro, Sassari, Oristano, Cagliari. Prendiamo il miele della Sardegna. I vasetti di miele sono messi dentro un sacchetto di jutta, rimettiamo, che è prodotto da le donne ex malate di lebra di un nostro progetto indiano dell'India. Quindi è un simbolo. Diciamo che è un simbolo che è venuto dal fatto che una volta, la prima volta, ce l'aveva offerto proprio un gruppo di ragazzini disabili che produceva miele nella loro cooperativa e ce l'aveva offerto, l'aveva offerto come insieme, in tanti posti ci saranno gadget, vasetti di primole, ma comunque sì. Quindi saremo a Cagliari, adesso nella giornata del 26, siamo in Piazza Carmine, siamo a Bonaria, siamo a Cristo Re, siamo a Sant'Anna. Ci dica però anche, siccome la trasmissione è vista anche in altre zone da Sardegna, a Oristano ci sarete? Siamo, a Oristano c'è sicuramente, ci sono tanti banchetti, a Sassari ci sono banchetti, a Nuoro ci sono tantissimi banchetti, compreso Orgosolo e compagni, ecco. A Cagliari ci sono anche, noi abbiamo banchetti adesso, in questo momento, anche a Elmas, a Semini, a Semini nella parrocchia, di fronte alla parrocchia del Carmine, parrocchia di San Pietro, Elmas, San Sebastiano, la zona di Capoterra abbiamo Poggio dei Pini, Capoterra, Frutti d'Oro, insomma, tutte le parrocchie di Frutti d'Oro, insomma, sì, abbiamo a Villa Sor, a Monastir si farà domenica prossima, e in altri posti, qui si farà domenica, perché? Perché le chiese non lo fanno tutte il 26, ma alcune, a seconda delle necessità della parrocchia, la spostano in altre giornate. La lebra si può sconfiggere? La lebra si può sconfiggere, e a quali condizioni? La lebra si può sconfiggere continuando, continuando, se possibile, a prenderla al principio, perché quando si scopre un malato di lebra, normalmente, normalmente si cerca anche familiari, eccetera, e si cercano. Il problema però, non si può sconfiggere in un tempo brevissimo, perché? Perché la lebra ha un tempo di incubazione, anche di 20 anni, e quindi è ovvio che uno se l'ha presa, e magari adesso non c'è niente, e tra 20 anni riappare. Quindi è una malattia difficile da sconfiggere per quello, ma se ad un certo punto uno si ricorda che c'è, non è il disastro assoluto, ecco, basta prenderla in tempo. Ecco, e io mi ricordo, volevo citare, e mi ha colpito, perché qualche volta anche noi ci dimentichiamo che è ancora così tanta, e il presidente dell'ILEP, che ci ha mandato una lettera proprio oggi, l'ILEP chi è? L'ILEP come chi è? Scusi, ILEP è International Apewish Organization, è la unione delle tutte le organizzazioni folero del mondo, che esistono perché? Perché così vengono divise, cioè per non fare figli e figliastri, in modo che quelli, la lebra sia seguita in modo, in tutti i posti, allora, per esempio, ecco, ogni nazione si occupa di alcune zone, e siamo in collegamento, in modo che tutti quanti ci possiamo aiutare l'uno con l'altro. E allora questo, lui diceva, parlava di un posto che ha visitato, dove c'era un bambino con la mano fasciata, che era stato appena operato, perché grazie a Dio ci sono adesso anche degli interventi chirurgici, che possono migliorare anche la sensibilità, i problemi dei nervi. Era stato fasciato, e lui è andato a vedere, in questa casa c'erano altri 5 o 6 bambini, che erano stati ugualmente operati. Nella casa di questo ragazzino, c'erano anche i genitori, che erano malati di lebra, ugualmente. Quindi voglio dire, la lebra esiste più di quello che si pensa, e purtroppo viene nascosta. Amici ascoltatori, concludiamo il nostro programma, con questo appello di Anna Maria Pisano, presidente nazionale dell'AIF, a dire che la lebra c'è ancora, si deve combattere in modi moderni, la lebra si può vincere, basta stare attenti, fare prevenzione, sensibilizzare le persone. Per questo domenica 26, si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale contro la lebra. Grazie alla dottoressa Pisano, e arrivederci alla settimana prossima. Grazie. 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 Grazie.